Deve rispondere di omicidio colposo e naufragio lo skipper di Massa Lubrense al timone del gozzo di 9 metri che giovedì scorso ha impattato lo scafo del veliero Tortuga nelle acque di Amalfi, provocando la morte della turista americana Adrian Bon. Elio Persico, 30 anni, dipendente di una società di noleggio Barche di Nerano, si trova ancora all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per le ferite riportate in seguito allo scontro. Gli esami tossicologici hanno evidenziato la presenza di alcol e cocaina nel sangue, ma le quantità non eccessive rilevate hanno richiesto la ripetizione del test per comprendere quanto tempo prima dell'incidente avesse assunto le sostanze. Intanto questa mattina alle 11 le prime risultanze dell'indagine affidata alla Guardia Costiera dalla Procura di Salerno, che sono state illustrate dal procuratore capo Giuseppe Borrelli alla stampa nella Capitaneria di Porto di Salerno. La Procura di Salerno lavora su due ipotesi di reato, omicidio colposo e naufragio colposo. Nelle indagini sull'incidente in mare è costato la vita all'editrice americana. In conferenza stampa, il procuratore della Repubblica, Giuseppe Borrelli, sottolinea che finora sono state ascoltate oltre 70 persone a bordo della nave Tortuga, oltre al comandante che hanno fornito la loro versione dei fatti, e il marito della vittima ricoverato in ospedale, che verrà nuovamente sentito appena le sue condizioni di salute miglioreranno.